Giro di vite della Guardia di Finanza di Vibo Valencia sui fondi ex GESCAL destinati all'edilizia residenziale pubblica. All'alba di oggi è scattata un'operazione che nel suo genere non ha significativi precedenti, almeno di recente in Italia. Sotto sequestro è finito un patrimonio di 800.000 euro. Nel mirino delle Fiamme Gialle l'immobile ha acquistato per essere adibito a sede dell'ATERP durante la passata consigliatura regionale. Sono 16 in tutto gli indagati, tra loro un esponente della passata giunta regionale, quella guidata da Giuseppe Scopelliti, dirigente e funzionari dell'ente ed un noto impreditore del Vibonese. Tutti devono rispondere a vario titolo di truffa aggarvata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo gli investigatori avrebbero utilizzato i fondi ex GESCAL per finalità diverse da quelle per le quali avrebbero dovuto essere usate. Sotto la lente di ingrandimento è finito l'acquisto del palazzo nel quale l'ATERP di Vibo Valencia ha attualmente la propria sede. La vicenda ebbe inizio il 22 settembre del 2010, quando l'allora direttore generale dell'ATERP di Vibo mise in atto un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla locazione e all'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'azienda. Ne venne fuori una gara conclusa nel dicembre dello stesso anno con l'aggiudicazione definitiva della locazione ad una SRL del territorio, costituita appena un mese prima. Tale società, si scrive nel decreto di sequestro, non era allora proprietario dell'immobile locato. proprietà acquisita solo qualche minuto prima che lo stesso immobile fosse rivenduto all'ATERP. Ma l'offerta, secondo il giudice per le indagini preliminari, proveniva da un soggetto privo del necessario requisito d'acquisto. La vicenda era entrata nel Vibo nel novembre del 2011, quando era subentrato il nuovo commissario dell'ATERP, il quale, scrivono gli inquirenti, già dal 2010 si occupava in proprio e comunque nell'interesse di società, che di fatto rappresentava l'acquisto dell'immobile da adibire a sede dell'ATERP. Passava un anno e nell'ottobre del 2012 l'ATERP di Vibo Valencia inoltrava la richiesta per l'acquisto dello stabile. La proposta non superava, sottolinea il GIP, il vaglio regionale. Vicenda archiviata neanche a pensarci. Nel luglio del 2013 la regione avviava l'ITERP per il finanziamento di programmi edilizzi dell'ATERP attraverso attività di manutenzione ordinare e straordinaria, recupero di alloggi non utilizzabili e nuovi programmi edificatori. Nel settembre dello stesso anno cambiava il dirigente del settore ravoli pubblici. Tra dicembre 2013 e giornalio 2014 l'ATERP di Vibo riproponeva l'acquisto della sede. Nel marzo del 2014 l'Aggiunta regionale approvava le modifiche alla precedente delibera e stabiliva che le risorse potevano essere assegnate a seguito della presentazione. All'ATERP di Vibo Valencia finivano 2.450.000 euro. Il pagamento veniva autorizzato il 21 luglio del 2014. Un mese dopo, il 20 agosto, avveniva la compravendita dell'immobile da parte della suddetta società.